E' una iniziativa che va nella direzione di mettere insieme operatori, giuristi, autorità nella direzione dell'assunzione di responsabilità e diffusione di conoscenza dei rischi che accompagnano le opportunità nella vita in Internet. E piuttosto che demonizzare Internet è giusto, e in questa direzione va anche questo dibattito di questa sera, è giusto conoscere i rischi, conoscere le insidie e cercare strumenti perché i minori in particolare vivano l'esperienza della rete in condizioni di sicurezza, informati e aiutati dalle scuole, dalle istituzioni, dalle famiglie a vivere responsabilmente questa esperienza. Questi eventi fanno parte di uno dei processi di diffusione della cultura della rete, della cultura del digitale, che vedono insieme anche altre iniziative in questo momento, tutte concorrono a promuovere una nuova cultura civica della società digitale. Sono piccoli mattoni nella costruzione di un edificio, di un progetto che naturalmente ha bisogno di ben altro che un dibattito e un'iniziativa come quella promossa da Internet, Vivi Internet al sicuro, ma vanno in quella direzione.